... ... ... ... ... e tu sei buon'utra! ... non mi si piace il termine? no 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 no! non è che questi vatti! ... va bene ma tu quando metti in una cosa? ... da un'altra meridigia a quattro cose! e lo sai... lo sai che sto a fare? io voglio una tutta, questa è dove voglio la ritardo! Ecco, allora, che legatezza senza norma? Ma lui ti dico che lo è scema, se non va a forza, se non va a dire amici qualche cosa, che sono detto, dobbiamo parlare a quattro occhi, ora vengono. Ecco, allora, se tu un po' di rumo che ti chiamano un po' di tempo, allora ci siamo. Ecco, va bene, allora chiediamo qui, aspetta un'ora, allora lascia la portata a me, ecco, pronto a che miscule, che qua faccia il diagra, ecco. D'accordo? Allora aspetta. Ciao. Oh ecco, oh ecco, oh ecco, oh ecco, zazza, boe qui facevo, zazza, però in questi casi ci vuole l'aiucino. E' un pochino e io non fornito Sono inessere a coppia Blu, blu, l'amore è blu Senza di pesce dall'amore non se va più Blu, blu, sempre più blu Blu, 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 blu Ma devo sterrare, là E voi srenta o io Tutto perché vadovo, sono andato un mezzo fatto da vedere l'uomo, ma non faccio capire su un'uomo. Tutte le soldi, tutte le soldi, tutte le soldi, va bene, aspettiamo, aspettiamo. Armà, amore mio, affacciateci da quando te, oh, da quando te? Fammi la legge, fammi la legge, fammi la legge, chiamate la gacchia. Aspetta, aspetta, non ci amo. Finisci l'azione. Sì, dà, aspetta, finisci l'azione. Aspetta, non ci vediamo, non ci vediamo, non ci vediamo cosa sei. Sì, appoggiamo. Finisci? Ma dai, appoggiamo, dai, cari, che ci avemo detto, aspetta, parliamo prima di una cosa a te. Allora, regarisci, regarisci, parlando prima di figli e di figli, anche della nostra cara figlia. Ma perché ci hai sentito qualcosa? Non ci ho sentito ancora niente, però tu no, è da fare parte, perché essa, la sua sposa... Sua sposa è buona gara? Ehi, ma tu non mai troppo? Sua vittu l'anno, un forte che mi ha fatto mai un piano. Però, mi ti da la mano l'angoschete? C'è che te dai soldi? C'è essa? C'è te a cantare la gaccia? C'è che la vista? Qui ci fai a cantare un ucchio. Ma, ha pure, ma... Sì, per me c'è che c'è un ucchio. C'è te dai, non so. È stata a cantare la gaccia, non ci capisco via. Guarda qua... Ma, siete qua... Why, ah theological? A chi ci dice che c'è chi ha mai be ne come faz? Perché c'è chi ha la be ne come la ca? Eh... Potve ho sentito la gente senza una casa? Esatto. Magando che fai la destituzione, a volte! Secondo pensato non ci può fare niente. Ma non ci può fare niente. Ma non succederebbe le due grandi parti. Allora, c'è la cattività che succederebbe. E' gli occhio, erano naturalmente le mie paci. Oh! Vedi malga, siete uomini, vozi alla spina, ovdia me credo a tutti, ci sono sottrazzati cari, ne vedi che non ho fatto da, ovdia... A adesso ci sono? Vedi malga, stiamo a fare un'intera, 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 un'intera. Vedi malga, stiamo a fare un'intera, 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 ci amano da patate... a un'intera, 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 perché ad un'intera di un'intera che faccio male. A allora, che non voce di fare un piacere d'acqua? Sì, nel piacere d'acqua, perché guarda, mi sono messa a una paura, per me nemmeno c'è una paura, non sa so come facevo io. Ma non mi poteva lanci, perché io volevo lasciare la prendere! Un po' fa... Grazie. 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 Grazie, grazie. Grazie. E questo che dice perché io non lo darò. E questo video fa trovate una patata ma una volta ciò una che deve vedere capata di quanto siete andati a pesare il tuo cuore. e poi una cosa per niente, perché sennò come si fa? Senta veri, ma anche te che è venita la comanda? Quella grossa, grossa, che è tutta che le vedeva? Mi ha tornato la povera, c'è che non è da subito? E che non la faccio chiamare, mi dai cuci? Tu sei proprio sicuro, ma guarda che io vado a chiamare. Non è stato ragazzo non è da subito, ma guarda che io vado a chiamare. La faccio chiamare, ma guarda che io vado a chiamare los. E sto Kero, ma guarda che io vado a chiamare, ma guarda che io vado a chiamare? Bene, perché face la macchina? ecco la stima in cucina, i centri sotto eh e in tasse niente tutti i ricordi sono e la mia, la mia e la mia ti piace la mia papà? papà ti piace la mia? oh, mi fai no, ma come chiamà? a me fa un cuore da te io sono disposta a morire, io sono dietro guarda lì, ti piace la mia e lì, ti piace la mia ti piace la mia ti piace la mia ti piace la mia guarda lì, ti piace la mia guarda lì, ti piace la mia eh, ti piace la mia a me, a me, a me a me, a me a me, a me a me a me a me faccio una cosa poi andate caro me tu siete accorto bro eh, la parola è una sola perchè io se no non ho avuto l'altro te a parte di io non ho avuto lì allora non ti preoccupate non ti preoccupate non ti preoccupate ok andiamo a me a domani a domani mattina presto che va a te Grazie